Ciao a tutti e benvenuti nel diciottesimo episodio della serie Varriamo, una serie in cui andiamo ad analizzare giornata dopo giornata tutti gli episodi arbitrali più dubbi e discussi. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di lasciare un piacere al video, di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qua sotto con il vostro personale parere sugli episodi arbitrali più dubbi di questa giornata. Giornata che è stata arbitrata non in modo corretto in tutte le gare, con alcune insufficienze, e sicuramente una giornata che va a seguire più la seconda del 2023, che non è stata ottima rispetto alla prima, che invece ha visto ben pochi errori e sicuramente era stata una giornata arbitrata molto correttamente da tutti gli arbitri. Partiamo subito dal match di cartello di questa giornata che ha visto affrontarsi prima e seconda classificata e stiamo parlando di Napoli-Juventus, dove Doveri però ha sempre preso le decisioni corrette. Vuoi che la gara poi non sia stata così complicata dal punto di vista arbitrale perché è una gara a senso unico? Vuoi che anche Doveri ci abbia messo del suo in senso positivo? La gara è stata portata a termine correttamente senza errori arbitrali. Andiamo a vedere gli episodi un po' più discussi, stiamo parlando del cartellino giallo per Danilo, e poi della decisione corretta di convalidare il gol di Rachmani, infatti non c'è niente di irregolare. Sul campo erano arrivate le proteste per un possibile fuorigioco, ma fuorigioco che non c'è perché il giocatore del Napoli è tenuto ampiamente in gioco da un difendente della Juve. E altra invece protesta che è arrivata più nei social è quella della possibile messa sul pallone, appunto dal calcio d'angolo della pallone al di fuori della lunetta, ma è solamente un gioco di prospettiva, infatti poi da una ripresa dall'alto si vede come chiaramente il pallone con una minima parte tocca comunque il limite della lunetta del calcio d'angolo e quindi il gol è da considerare regolare. Prossima gara che invece ha visto una prima insufficienza, stiamo parlando di Inter e Las Verona, che arbitrato Fabri a cui abbiamo deciso di dare come voto 5,5. Andiamo a vedere subito l'episodio clui del match, che è il gol annullato all'Inter per Lautaro, gol annullato giustamente perché come si vede dall'immagine Lautaro sposta Davidovic con entrambe le mani, quindi è un contatto falloso, giusta anche la decisione di far proseguire l'azione fino al gol appunto di Lautaro, nonostante il fallo poi sia venuto parecchi secondi prima e parecchio lontano dalla porta, ma nel caso appunto non ci fosse nessun fallo, il bar così poteva intervenire e quindi è stata una decisione corretta, soprattutto a riparare quello che era successo la scorsa giornata, sempre i danni nel Razzurri. Altre decisioni nella gara invece sono sembrate abbastanza non corrette, stiamo parlando della prima cosa dal punto di vista disciplinare del mancato secondo cartellino giallo sia per Davidovic sia per Ienne, in entrambi i casi meritavano di essere muniti per la seconda volta, ma l'errore più grave è sicuramente il rigore non assegnato all'Inter per il tocco di braccio di Ienne, braccio di Ienne che è largo e quindi ci poteva stare anche il cartellino giallo, che vi avrebbe portato poi al secondo e soprattutto il calcio di rigore per l'Inter. Prossima gara che è Lecce-Milan che è arbitrato orsato, la prima dopo il post mondiale ed è tornato in una grande forma, infatti il voto che vedete è un voto meritato, 7 e mezzo, andiamo a vedere gli episodi, nessun errore per lui, partendo dalla decisione di non assegnare calcio di rigore a Lecce per il tocco di braccio di Messias, questa decisione è corretta, così come è giusto anche convalidare il primo gol del Lecce, o più precisamente l'autogol di Ternandez, non c'è niente di regolare, il contatto con cui Ternandez si butta la palla nella propria porta è regolare, ed è giusto convalidare anche il gol di Calabria, infatti non c'è nessun tipo di fuorigioco di Firou, quindi arbitraggio perfetto per Orsato che porta a casa una buona prima partita dopo il buon mondiale. Prossima gara che è Roma-Fiorentina che ha arbitrato Giua, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 6+. Partiamo dai due cartellini gialli dati a Dodò, sono entrambi corretti, nonostante poi le lamentele di Italiano a fine gara, ma lamentele abbastanza insensate, visto che i due cartellini gialli sono netti. Dal punto di vista disciplinare invece poi è sembrato troppo eccessivo il cartellino giallo per Smalling, non meritava assolutamente in quella circostanza un cartellino giallo, manca invece un rigore alla Roma per il tocco di braccio di Conè, ma è giusto convalidare il secondo gol della Roma, infatti non c'è fuorigioco di Abram sull'azione che poi ha portato alla doppietta di Dybala. Prossima gara che è Atalanta-Salernitana che ha arbitrato Aureliano, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 7-1. Un po' lo stesso discorso di Dover, infatti i voti si equivalgono, una gara che poteva essere sicuramente tosta dal punto di vista arbitrale, ma che poi il risultato e la superiorità di una squadra rispetto all'altra ha portato una gara abbastanza tranquilla. Anche in questo caso due le decisioni, due le decisioni corrette, entrambi sono calci di rigore all'Atalanta. Andiamo a vedere il primo che è stato assegnato con l'ausilio del VAR, l'arbitro aveva assegnato già fallo a favore dell'Atalanta giustamente, poi il VAR è intervenuto per dimostrare che il fallo di Fazio su Eilund in realtà viene dentro l'aria, come si vede da questo fermo immagine, il piede dell'attaccante dell'Atalanta è dentro l'aria, quindi il contatto diventa un contatto da calcio di rigore, decisione corretta, così come è ancora più corretto, è ancora più netto il secondo calcio di rigore dell'Atalanta, sempre per polpa, tra virgolette, di Fazio, che colpisce chiaramente l'attaccante dell'Atalanta e porta al secondo calcio di rigore. Prossima gara che è Torino-Spezia, che ha arbitrato Gersini, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 6. Una decisione presa in modo corretto, una decisione completamente errata. Partiamo dalla decisione corretta, che il calcio di rigore dato a Gigi, con il rispettivo cartellino giallo, dato a Gigi, calcio di rigore allo Spezia, più che giusto, braccio di Gigi largo, nonostante poi se si vede tutta l'azione, la casualità che ha portato il pallone e lo Spezia al tiro, però il braccio è giusto, è largo, è giusto il cartellino giallo, perché un tiro indirizzato verso la porta è rigore allo Spezia, più che netto. Errori invece a sfavore dei Granati, invece il cartellino rosso non dato a Caldara. Un cartellino rosso più che giusto, perché c'erano tutte le situazioni che potevano portare a questo cartellino, invece che il cartellino giallo, che poi è stato dato da Gersini in campo. Infatti l'attaccante del Toro che ha subito fallo era in vantaggio, si stava già indirizzando verso la porta, la distanza dalla porta era ormai ravvicinata, visto che si è trattato un fallo appena al di fuori dell'area di rigore, quindi il cartellino più corretto sarebbe stato di colore rosso. Prossima gara che è Udinese-Bologna, carbitrato Volpi, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 5,5. Un episodio dove però non ha preso la decisione corretta, infatti manca in un modo abbastanza netto un rigore al cartellino al Bologna nel contatto tra Udogie e Orsolini. Un contatto falloso dove Udogie arriva in netto ritardo sull'attaccante del Bologna e commette un fallo che sarebbe stato punibile e che avrebbe portato al calcio di rigore per la squadra rosso-blu. Prossimo match che è Sassuolo-Lazio, carbitrato Pairetto, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 6. Una buona gara dal punto di vista delle decisioni arbitrali importante, ma dal punto di vista disciplinare forse a peccato di qualche cartellino. Stiamo parlando prima dell'episodio importante della gara che sicuramente il rigore ha segnato alla Lazio con l'intervento del VAR e il conseguente giallo per Tolja. Il rigore è giusto, nonostante ci siano anche alcuni passi che potrebbero aver portato anche un non possibile rigore, ma da questo film d'immagine si vede come se Tolja non avesse toccato il pallone con il braccio il pallone sarebbe entrato in porta. Quindi sicuramente il calcio di rigore è corretto, nonostante poi Tolja non veda mai la palla perché è girato di schiena e nonostante poi il tocco di Milinkovic-Savic si è molto ravvicinato rispetto alla posizione del difensore del Sassuolo, ma il calcio di rigore in questo caso è corretto, così come anche il cartellino giallo. Cartellino giallo che però non è arrivato in modo abbastanza inspiegabile ai confronti di De Frelle e Maxim Lopez e questo avrebbe portato ha portato poi il voto non così alto comunque sufficienza perché la decisione importante è stata presa in modo corretto ma dal punto di vista disciplinare poteva fare qualcosa in più. Passiamo poi alla penultima gara stiamo parlando di Empoli, Sampdoria che ha arbitrato Santoro a cui abbiamo deciso di affidare come voto 5+. Una gara che ha arbitrato tenuto bene fino agli ultimi secondi del match dove però ha preso una decisione abbastanza inspiegabile abbastanza poi grave soprattutto perché è stata presa con l'ausilio del VAR. Partiamo dalla prima cosa che è stata fischiata e stiamo parlando del dopo il gol della Samp di Collei è stato fischiato l'arbitro è stato richiamato al VAR ed è stato fischiato un fallo di braccia di Gabbiadini che vedete nell'immagine sotto. Fallo che ci può stare perché comunque Gabbiadini tocca il pallone anche se in modo involontario però sappiamo che quando appunto c'è un tocco di mano in un'azione offensiva che poi porta il gol il 95% delle volte il gol viene annullato anche se il tocco viene in una situazione non volontaria come in questo caso. Quindi la decisione di annullare il gol è stata corretta ma se poi va a vedere il motivo della caduta di Gabbiadini come vedete nell'immagine sopra si vede chiaramente che Luperto è in netto ritardo e colpisce la gamba appunto dell'attaccante della Sampdoria e quindi in questo caso la decisione sarebbe quella corretta sarebbe stata quella di annullare il gol della Samp ma a segnare calcio di rigore alla squadra blucerchiata per questo fallo di Luperto su Gabbiadini decisione che non è stata presa dall'arbitro e che quindi ha penalizzato ampiamente la squadra appunto blucerchiata che poi ha perso la gara. Passiamo poi all'ultima gara che ha visto arbitrare massa abbiamo deciso di affidare come voto sei tra Cremonese e Monza che però non ha avuto episodi arbitrali dubbi e quindi una gara abbastanza tranquilla. Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale ciao a tutti Ciao a tutti